amici sportivi appassionati di palla a mano nessun pesce d'aprile siamo regolarmente in onda anche oggi buon poveriggio anche a Matteo Aldamonte primo aprile insomma nessuno scherzo particolare ha riservato il massimo campionato almeno nella parte alta della classifica la Serie A Beretta dove insomma la classifica si sta sgranando sempre di più e il Conversano vede sempre più vicino il traguardo finale quello che poi dovrebbe potrebbe consegnare gli scongiuri sono d'obbligo ovviamente in casa Conversano insomma un titolo atteso da tanti anni la classifica si sgranava Conversano non si ferma perché Conversano continua a vincere ha battuto anche il Pressano che è comunque una signora squadra di misura quindi dimostrando anche di saper soffrire peraltro nella sfida casalinga del Palazzo San Giacomo Conversano in vetta con grandi meriti in fuga anche per qualche demerito delle altre perché in modo particolare la principale indiziata il Sassari ha rallentato ancora non ha centrato la vittoria solo un pareggio contro cingoli vediamo con 8 punti di vantaggio e 18 ancora in palio la Serie A Beretta maschile rischia almeno per il discorso scudetto di diventare un monologo di Conversano non che fin qui sia stato molto diverso giudizio avventato? No lo dice la storia recentissima Supercoppa e Coppa Italia già nella bacheca dei pugliesi che anche sabato scorso hanno offerto l'ennesima prova di forza superando il Pressano degli ex Fusina e Dainese un'altra squadra in grado negli ultimi anni di essere sempre in lizza per le posizioni di vertice Conversano ha accumulato ora un avvantaggio considerevole frutto soprattutto della sua costanza un fattore imprescindibile probabilmente indispensabile in un campionato così lungo e senza playoff ad aiutare la squadra di Terafino sono i passi falsi di chi sta subito dietro Leggi Sassari che manca l'appuntamento con la vittoria anche nel ritorno a casa il Palasantoro infatti lascia in dote un solo punto agli isolani troppo poco per poter architettare una rimonta tantissimo invece per la sfidante la Santa Lelicingoli che resta aggrappata all'obiettivo salvezza nonostante la corsa spedita di Siracusa e Molteno Marchigiani contro Conversano sabato proprio i Lombardi invece sognano l'impresa in casa contro Sassari nel sabato di Pasqua mentre l'Albatro aspetta Trieste alla Palalobello e anche qui nulla di scontato i Giuliani non vincono dal 30 gennaio hanno perso le ultime quattro gare sono scivolate a meno due dalla zona retrocessione scontro diretto nei bassi fondi anche per Appiano e Banca Popolare Fondi gli altoatesini nel 2021 non hanno mai raccolto punti l'ultima volta era il 12 dicembre contro Cingoli anche quella era una sfida fondamentale per la permanenza in Serie A Beretta non ditelo a fondi però che di scontro diretto ne ha già perso uno sabato scorso e che ora ambisce a ritrovare la verve delle giornate precedenti nel programma di sabato anche Bolzano-Pressano la grande classica del nord il derby Merano-Bressanone ricco di tradizione e la sfida che vale il quarto posto tra Cassano-Magnago e Degossiena Bene, questo è il punto corredato dalle immagini e dicevamo già in apertura poi abbiamo ulteriormente approfondito il tema Conversano di Tarafino che sta marciando a natura regolarissima ecco senza grandissimi scossoni ma una regolarità di rendimento che in pratica è cominciata Matteo dall'inizio della stagione quando si pensava che potesse avere difficoltà al Conversano visto che ha cambiato tantissimo rispetto all'anno passato invece hanno trovato subito l'alchimia giusta il giusto amalgama e i risultati stanno premiando le scelte Sì, in questo Tarafino è stato molto bravo nel inserire diversi giocatori nuovi ma giocatori che conoscono bene il campionato italiano da Radovcic che lo conosce probabilmente meglio di chiunque altro in questo campionato a Nelson che si era già rivelato un ottimo straniero e che è cresciuto tanto anche a Conversano ha trovato secondo me anche in fase difensiva esattamente grande stabilità e grande rendimento anche in fase difensiva e poi Conversano c'è da dire che ha avuto anche tanta continuità di gioco perché praticamente forse una delle poche squadre che è riuscita fortunatamente a non fermarsi mai e questo ha aiutato indubbiamente sia Tarafino che i suoi giocatori ad avere appunto continuità di partite durante la settimana e quindi un crescendo di buoni risultati un unico grande rammarico per il Conversano di Tarafino è il fatto di giocare in un Palazzo San Giacomo in questa fase desolatamente deserto immaginiamo cosa sarebbe stato il Palazzo San Giacomo con una squadra prima in classifica però l'appetito vi è mangiato quindi vorranno vincere anche il prossimo anno prima devono vincere quest'anno ma vorranno continuare a stare lì ed allora al termine della partita diciamo prima giocata punto a punto tra Conversano e Fusino e Pressano abbiamo raccolto le impressioni lo ha fatto l'ufficio stampa della Conversano le impressioni di Tarafino e Fusina uno che di Scudetti ne ha vinti tanto anche a Conversano vediamo ma io credo che se sei giovane e hai minuti di gioco vuol dire che hai qualità però se sei giovane non sei mai pronto nel senso che devi seguire comunque un tuo percorso per poter maturare e per poterti anche smaliziare quindi noi stiamo lavorando bene io sono contento della stagione che stiamo facendo ancora ci sono tante partite da giocare ho avuto la possibilità da parte della società di poter schierare questi giovani mi sto mettendo in campo comunque è tutta una squadra che è composta anche dai senatori tra virgolette che stanno facendo il loro anche in questa stagione sono tutte partite difficili questo lo diciamo sempre ogni volta non possiamo mai rallentare non possiamo mai distrarci durante tutti i 60 minuti quando accade questo quando ci facciamo un pochettino nervosire è logico che arriva un po' di confusione e facciamo errori anche abbastanza scontati delle volte però devo dire la verità quest'anno è un po' il motivo di quest'anno noi siamo capaci anche di vincere meglio delle volte le partite delle volte soffriamo tanto come in questo caso ma è così l'importante è adesso saper soffrire anche riuscire a portare a casa i due punti perché è la cosa che serve in questo momento non serve tanto stare a pensare al bel gioco dobbiamo saper soffrire in quei momenti difficili e portare a casa il risultato questo è importante tanti giovani messi in campo schierati in campo da Alessandro Fusina in questa parte finale della stagione ecco in questa parte finale della stagione mentre la regia ci può proporre già la classifica assisteremo proprio a diversi campionati perché c'è il campionato per la vittoria finale per la conquista dello Scudetto che vede in questo momento il conversano super favorito un bel gruppo di squadre che in pratica dovrà giocarsi le posizioni di rincalzo e tante altre squadre che invece dovranno lottare per evitare la retrocessione chi è senza problemi come il pressano può anche cominciare a pensare ad una programmazione sì lo stanno facendo in tanti e in questo anche il mercato ha già iniziato a diventare abbastanza frizzante e sì sicuramente ormai per alcune squadre effettivamente gli obiettivi si sono già delineati salvezza raggiunta il conversano è molto lontano effettivamente per alcuni quindi c'è la possibilità di dare minuti spazio a giocatori che anche nel prossimo campionato che si preannuncia comunque molto molto equilibrato molto combattuto potranno sicuramente dare una mano perché ormai nella palla a mano attuale l'ampiezza di Rosa è qualcosa di assolutamente fondamentale non è più possibile e non soltanto ai tempi del covid esattamente esattamente vediamo la classifica perché come dicevamo insomma bisogna fare grandissima attenzione soprattutto la parte bassa quindi la parte a destra della classifica dove da Trieste a Molteno sono ormai tutti in lotta ricordiamo retrocedono le ultime tre quest'anno abbiamo più volte ripetito non c'è post season né playoff né play out e dunque una lotta veramente senza quartiere all'ultimo sangue indubbiamente tra l'altro sabato ci sono alcuni scontri diretti niente male e sì devono stare attenti anche squadre come magari a piano o la stessa Trieste è vero Trieste ha tante partite da recuperare però squadre che potevano dirsi tranquille leggermente fino a qualche giornata fa invece complici i buoni risultati il crescendo dei risultati da parte di Siracusa da parte di Fondi da parte anche della stessa Molteno che avevamo dato per spacciata invece spacciata non è devono stare attenti ormai si è assottigliato il divaro tra queste squadre è molto potrà dire Matteo anche il prossimo turno che vediamo ancora in grafica sì lo stiamo vedendo perché c'è intanto un albatro Trieste che al Palalobello apre la giornata alle 16.30 ed è una partita niente male poi c'è Sassari che in un momento piuttosto delicato che va a Molteno invece Molteno è sicuramente in crescendo e in casa ha ottenuto la gran parte dei suoi punti stagionali e anche quella è una partita delicata Cingoli con Versano quindi anche qui un testa a coda e poi c'è a piano controfondi e anche questo è un altro scontro diretto altra notizia del prossimo weekend da segnalare con grande gioia e soddisfazione il ritorno in campo dell'acqua e sapone Junior Fasano assente dal proscenio da diverso tempo più di 45 giorni quasi 50 per tutte le vicende legate al Covid situazione risolta dal punto di vista sanitario c'è da trovare e ritrovare una condizione ricordiamo Fasano che aveva insomma approcciato la seconda parte della stagione quindi l'approssimarsi della Coppa Italia in un gran momento di forma poi insomma tutto è andato a carte 48 ma Fasano riprendendo un po' il discorso che facevamo prima a proposito della programmazione sta già pensando al futuro e si è assicurata oltre che chiaramente a dover chiudere la stagione in corso e sta costruendo secondo me un futuro degno degli ultimi anni in cui era riuscita a vincere a vincere tutto in Italia perché si è assicurata un gran giocatore si tratta di Gabriel De Santis è un terzino destro classe 93 che arriva dalla squadra dell'Awe nella Bundesliga 2 è un giocatore di origini italiane e questo riguarda e interessa molto anche Riccardo Trillini che però ha maturato esperienza intanto nel Savehoff che gli addetti ai lavori conoscono perché è la squadra principe del campionato svedese e poi è andato appunto in Bundesliga 2 dove ha collezionato negli ultimi 4 anni una media all'incirca di una trentina di gol a stagione gran braccio gran mancino giocatore interessante rafforza la colonia degli svedesi di Fasano perché c'è anche Albin Jastam lo ricordiamo che è stato confermato ha rinnovato ed è senza tema di smentita il miglior straniero in questo momento del campionato insieme anche l'altro svedese a Jakob Nelsson del Conversano e quindi aggiungici tutto quello che Fasano ha già di per sé in casa sua ed è una squadra candidata per arrivare in alto questa musica dolce anche per le orecchie di Riccardo Trillini perché De Santis potrà insomma sistemate tutte le vicende di carattere burocratiche dare manforte al gruppo azzurro che ricordiamo per quanto riguarda la Senior è già proiettato verso il prossimo impegno decisivo contro la Bielorussia avremo modo poi di parlarne nei prossimi appuntamenti per quanto riguarda le due formazioni giovanili di punta l'Under 21 e l'Under 18 ci sono i campionati di categoria che attendono verdetti importanti e lì dobbiamo incrociare le dita perché insomma c'è profumo di grande risultato ma insomma procediamo con ordine intanto però a Chieti ha preso corpo e sta prendendo corpo la Nazionale del Futuro la Nuova Under 17 che si è radunata proprio presso la Casa della Parlamento 40 azzurrini a Chieti che sono un po' il frutto del lavoro di selezione a livello territoriale delle settimane scorse portato avanti sia da Riccardo Trillini che da Beppe Tedesco 40 azzurrini provenienti da tutta Italia che dovranno formare il primo gruppo perché poi a questa età c'è sempre un primo gruppo ma c'è la possibilità anche di rientrare per chi non sarà tra i primi venti della Nazionale del 2017 che debutterà in campo internazionale ai prossimi campionati europei Open di Gothenburg nell'ambito della Partille Cup a luglio ne abbiamo parlato proprio con il direttore tecnico Riccardo Trillini ascoltiamo il lavoro è partito dalla visionatura di questi ragazzi nelle aree di competenza per cui abbiamo girato io e Beppe Tedesco un po' tutta l'Italia per cercare di fare un primo screening poi era la necessità di metterli un po' insieme perché non è così facile comparare un giocatore che gioca in estremo all'altro dell'Italia in categorie diverse una grande soddisfazione perché potremmo dire di partire con dei ragazzi che antropometricamente sono ben messi non siamo più l'Italia dei piccolini forse questo era già da tempo ma già da questa generazione 2004-2005 fa vedere terzini e pivot anche di due metri per cui non siamo inferiori a nessuno da questo punto di vista dal punto di vista tecnico forse ci saremo aspettati un po' di più ma quest'anno è particolare dobbiamo dire che molti di questi ragazzi almeno per il 70-80% hanno perso un anno per cui dovremmo fare un lavoro molto più intenso del normale per cercare appunto di riparare un qualcosa che è vero che è comune però dobbiamo fare di più ecco Matteo tu sei stato a Chieti hai fatto visita al gruppo non delle giovani leve azzurre ecco dal punto di vista tecnico ma anche ambientale che riscontri hai portato a casa intanto sicuramente quello che ha detto Riccardo Trillini da un punto di vista fisico c'è da restare impressionati ci sono finalmente c'è da dire l'avevamo già visto negli ultimi bieni ma delle nazionali anche fisicamente presenti Riccardo Trillini ha rimarcato anche qualche ritardo se possiamo chiamarlo così da un punto di vista tecnico perché questi ragazzi praticamente non hanno potuto lavorare nell'ultimo anno molti di loro un anno per l'altro molto importante esatto esattamente di crescita e quindi sicuramente da questo punto di vista bisognerà lavorare ancora di più ma c'è indubbiamente del talento c'è anche qualche ragazzo che ha già posto in squadra importanti penso a De Angelis che per esempio gioca già in maniera sistematica in Serie A Beretta con la Junior Fasano e poi grande entusiasmo da parte di tutti i giocatori veramente una bella atmosfera insomma un gruppo sul quale lecito scommettere per il futuro insomma è un processo questo che sta andando avanti con questa è la quarta nazionale maschile c'è la Serie Orlando 21 under 18 questa che si è appena formata questo proprio nel segno di una continuità di lavoro sempre con la filiera tecnica guidata da Riccardo Trillini ecco ora ci fermiamo andiamo in pausa alcuni comunicati e poi ritorniamo in studio per approfondire altri temi legati in modo particolare al campionato di Serie A Beretta femminile che ha ripreso e ha ripreso anche con la disputa di alcune partite molto importanti che erano da recuperare bene seconda parte del nostro appuntamento settimanale e a proposito di appuntamenti settimanali avete già visto la clip uno da non perdere assolutamente quello su Sky Sport Arena con la Champions esattamente mercoledì prossimo infatti ieri abbiamo seguito l'andata tra i pigseghe del Kiel degli ottavi di finale mercoledì prossimo siamo in prima serata Sky Sport Arena seguiamo la gara tra i polacchi del Kielse e la formazione francese del Nant è il match di ritorno fischio d'apertura alle 20.45 canale 204 e dunque questo è l'appuntamento settimanale su Sky Sport Arena ritorniamo poi ad occuparci della piattaforma Sky e degli appuntamenti internazionali che attendono gli sportivi italiani non soltanto gli appassionati di Palamano perché ci sono delle importanti novità intanto come detto prima dell'interruzione pubblicitaria riflettori puntati sulla sede a Beretta femminile che insomma comincia anche in questo caso un po' a sgranare la classifica in vetta dove la Iomini Salerno sembra stia prendendo il largo e adesso ha costruito un gap significativo anche perché sono sempre meno le gare mancanti al termine della regular season anche se ricordiamo qui tutto viene rimesso poi nel frullatore a differenza del maschile in occasione dei playoff nel frattempo Salerno ha portato a casa in sequenza due risultati importanti prima ha battuto soffrendo Bressanone in casa e poi nel recupero infrasettimanale ha superato la Cilev Stalerice vediamo il sabato di Pasqua della serie a Beretta femminile riaccenne i riflettori sui diversi fronti aperti in classifica a tenere alto il livello di guardia ci hanno pensato i recuperi infrasettimanali che hanno visto impegnate e vincenti sia la Iomi Salerno che la meccanics sistema d'Erso le campane sempre più in vetta hanno trovato negli ultimi quattro giorni i punti fondamentali nella difesa del primato e questo nonostante non siano mancate le difficoltà di sorta come quelle affrontate e superate sabato nella sfida contro una Bricsal su Tirol coraggioso alla Palapalumbo nonostante le pesanti assenze di Ghilardi e Hilber cortomuso si dice nell'ippica ciò che conta è vincere anche perché alle spalle si rifà sotto proprio d'Erso le opitergine battono la Cellini Padova nel derby e si preparano a fare visita alla Cassano Magnago altra squadra affamata di punti in chiave e salvezza ma per le giallonere di Cavallaro l'occasione è da non gettare via Salerno sabato riposa e la chance di ridurre il divario rispetto alla vetta è imperdibile lo sa che Bressa non è rinvigorito dalla buona prova del weekend e ora di ritorno tra le muramiche contro le guerriere malo le vicentine viaggiano con tranquillità ma hanno individualità capaci di giocare un brutto tiro anche a Brunster e compagne retrocedono in tre questo si sa ma azzardare pronostice impossibile Padova con i suoi nove punti fa visita alla Cilevstalerice Leno proverà a sfruttare la lunga assenza della cassa rurale pontina dai campi in pratica un mese per rappiazzare il colpaccio mentre la Santarelli cingoli è ad una sorta di ultima spiaggia in casa contro l'Ariosto Ferrara le marchigiane di Anaia fanalino di coda si giocheranno tutto tra il match contro le Emiliane e i recuperi in totale cinque da disputare nelle prossime settimane rinviata in ultimo la gara tra Alibest Espresso Mestrino e Nuoro ricordiamo che comunque come giustamente sottolineava Matteo che la classifica finale della regular season dà soltanto la composizione poi della griglia playoff dove poi insomma tutto ritorna in ballo e dal punto di vista proprio della griglia playoff c'è da dire che insomma il posizionamento non è affatto scontato soprattutto per la quarta posizione attualmente occupata da Erice ma con Pontinia e Messino che devono recuperare ancora molte partite ci sono ancora scontri diretti poi da disputare lì è tutto aperto effettivamente è vero che Erice ha messo in cascina un vantaggio comunque importante perché in questo momento è un vantaggio di sette punti che in un campionato lo ricordiamo sempre in cui le partite valgono due non è poco però è al tempo stesso vero che ci sono scontri diretti e soprattutto che chi sta dietro deve recuperare diverse partite quindi avrà forse la possibilità di trovare anche continuità di gioco rispetto a quello che è stato negli ultimi mesi e a proposito di scontri diretti non dimentichiamo che il prossimo 6 aprile si disputerà il recupero della gara da Mechanic System Oderso Iomisarello un match che potrebbe poi veramente decretare la squadra prima classificata al tema della regular season vediamo dopo aver visto la classifica vediamo anche cosa ci attende nel prossimo turno Matteo lo stiamo vedendo in grafica occhio a Santanelli Cingoli Eriosto Ferrara è la gara d'apertura di giornata Cingoli deve assolutamente vincere se non vuole scivolare definitivamente in coda alla graduatoria Cassa Rurale Pontini Aleno anche qui per Leno è una partita importante in chiave salvezza Cassano Magnaco Mechanic System Oderso Brixen su Tirol contro Le Guerriere Malo e AC Lifestyle Erice contro Cellini Padua questo è il quadro completo poi settimana prossima avremo sicuramente tra partite disputate di campionato e recuperi un quadro ancora più chiaro diciamo che il tempo stringe anche perché insomma c'è il termine perentorio del 2 giugno entro il quale concludere diciamo così la stagione regolare per non alterare poi tutta una serie di appuntamenti perché poi in tutto questo bailam di partite da recuperare e di giornate da disputare si inserisce anche una corposa parentesi azzurra Matteo la nazionale femminile che oltre a dover giocare le qualificazioni agli europei a fine stagione e questo già andrà a modificare indubbiamente l'evolversi del campionato perché l'Italia non era preventivato il fatto che l'Italia giocasse a fine a inizio giugno di fatto queste prequalificazioni perché la comunicazione della federazione europea è arrivata in corso di stagione e poi ci sono i playoff ai campionati mondiali e lì l'accesso ce lo siamo sudato ce lo siamo guadagnato in occasione del primo turno giocato a Maria Enzerdorf in Austria Italia che giocherà il 16 ed il 18 quindi in sequenza e la novità è che giocherà le due partite il 16 e il 18 aprile a Erd quindi in casa entrambe dell'Ungheria Erd è una cittadina a circa 20 km da Budapest e quindi è stata trovata l'intesa tra le due federazioni si giocheranno entrambe le sfide in casa dell'Ungheria pronostico all'apparenza chiuso questo va detto per l'Italia ma comunque è un'opportunità importante per le nostre azzurre per le ragazze di Liliana Ivace opportunità di crescita di confronto con una squadra che è tra le prime 10 del panorama europeo e mondiale senza tema di smettita qualificata anche per le Olimpiadi alle Olimpiadi e chiudo dicendo che andranno ovviamente in diretta su Sky Sport Arena entrambe le partite assolutamente si doppio confronto delle azzurre di Liliana Ivace sempre su Sky Sport Arena sarà un'occasione per un confronto internazionale che non potrà che arricchire il bagaglio d'esperienza delle giovani azzurre di Liliana Ivace in vista poi dell'appuntamento sicuramente più importante quello di giugno il girone del campionato europeo per la qualificazione alla seconda fase ora dobbiamo chiudere siamo in chiusura uno sguardo a quello che ci attende nel prossimo fine settimana fine settimana che ritorna ad essere molto corposo perché sono state settimane in cui si sono un po' alternate la sede a Beretta maschile e quella femminile sabato ritornano tutti si torna tutti insieme intanto parentesi stasera alle 19 c'è la gara tra il Melsing e il run a Carleven su 11 Sports di Bundesliga quindi torniamo con la Bundesliga tedesca in diretta su 11 Sports e poi il focus è spostato sulla serie a Beretta maschile e femminile in contemporanea nel fine settimana di Pasqua il prossimo 3 aprile con tante partite interessanti e allora tanto da seguire tanta palla a mano da gustarsi o in streaming o attraverso Sky Sport Arena per quanto ci riguarda è tutto l'occasione è gradita anche per formulare alla palla a mano italiana gli auguri di una buona Pasqua auguri a tutti che sia veramente una Pasqua di resurrezione per tutti e non soltanto per la palla a mano italiana noi ci ritroviamo settimana prossima arrivederci